Aperto il bando per partecipare alla 33esima edizione di Musicultura, la realtà italiana che ha a cuore la dimensione artistica della canzone e che ricerca, promuove e premia meritevoli talenti, nonché potenziali nuovi protagonisti dell'arte popolare della canzone. Per partecipare occorre essere autori o coautori dei brani di cui si ha interpreti e avere compiuto 18 anni. Le proposte sono da inviare entro il prossimo 10 novembre 2021. Dopo le selezioni preliminari ad ascoltare e valutare le canzoni finaliste è chiamato un comitato artistico di garanzia. I suoi primi firmatari furono nel 1990 Giorgio Caproni e Fabrizio De Andrè. Da allora vi aderiscono personalità del mondo della musica, della letteratura e del cinema. Il comitato si arricchisce nell'edizione 2022 della presenza della scrittrice e poetessa Maria Grazia Calandrone ed è la rappresentante di lista. Tra i giurati nonché conduttore delle ultime tre edizioni delle serati finali del festival c'è anche Enrico Ruggeri. Una comunicazione crossmediale seguirà le varie fassi del festival che avrà inizio con la selezione di circa 60 proposte che saranno convocate a cavallo dei mesi di febbraio-marzo 2022 per sostenere un'audizione live al Teatro Lauro Rossi. 16 saranno i finalisti che verranno presentati in un concerto al Teatro Persiani di Riecanati nel mese di aprile 2022. Parallelamente i brani finalisti entreranno a far parte del CD compilation e di musicultura e saranno presi in consegna e programmati da Rai Radio 1. 8 saranno i vincitori finali della Kermesse di cui 5 designati dall'insindacabile giudizio del comitato di garanzia, uno da musicultura, i due rimanenti da ulteriori percorsi. I vincitori, insieme ad ospiti di spicco, saranno protagonisti delle sirate finali del festival in programma a giugno 2022 all'Arena Sferisterio di Macerata, dove il voto del pubblico deciderà l'assegnazione del premio Banca Macerata di 20.000 euro al vincitore assoluto. Verranno inoltre assegnati la targa della critica Piero Cesanelli di 3.000 euro, il premio AFI, sempre di 3.000 euro, ed il premio per il miglior testo di 2.000 euro. Il regolamento completo del concorso e la domanda di partecipazione a Musicultura 2022 sono disponibili su www.musicultura.it